Ciao, sono Giallo Santamaria e sono autore del popolare libro ChatGPT Revolution. Grazie innanzitutto a BookNess per avervi dato la possibilità di pubblicare in meno di una settimana il mio libro che sta avendo un riscontro fantastico ed è oggi il più venduto a tema ChatGPT. Mi sono occupato di ChatGPT sin dalla sua uscita e ci ho lavorato intensamente con i miei clienti, su più fronti, con tanti tipi di risultati. Si tratta di uno strumento utile e rivoluzionario, ma pensare di fare un libro efficace usando ChatGPT è assolutamente follia. Questo lo possiamo dire. Il risultato sarebbe pessimo, il libro diventerebbe un'arma negativa nelle mani dello scrittore, un pericolosissimo boomerang. Se ci pensiamo, il vero segreto di un libro è l'animo umano, la storia, le emozioni che fa nascere nel lettore. Un libro fatto con l'intelligenza artificiale non avrà mai i componenti essenziali che servono per creare un libro efficace, che sono puramente di animo umano. Solo un abile ghostwriter, insieme ad un metodo ed un framework efficace, può creare un libro che ti rappresenti, che rappresenti la persona. È inevitabile che sia così. Così come proprio io sto continuando a fare con i miei clienti da quando utilizziamo l'intelligenza artificiale. È fondamentale capire questo concetto. Se vuoi fare un libro e vuoi ottenere dei risultati, se vuoi che il libro diventi il tuo investimento più importante e che sia un libro di successo, non ci sono scorciatorie tecnologiche. Devi farti seguire e aiutarti, così come ho fatto io, scegliendo Bookness. Ciao!